C'è una sola cosa, allora, voi potete fare tutte le scelte che volete, mangiare vegano, avere coraggio, non avere coraggio, dare ai vostri figli quello che volete, ve ne assumete la responsabilità, non mi interessa. È vero, come diceva Jacopo Fo, che ci sono tantissime diete vegane, i vegani, quelli più attivi, secondo me, sono anche un po' una setta, ma lasciamo perdere questo argomento. La cosa fondamentale è che non dovete rompere i coglioni agli altri. Ma chi è che risposta rompendo? Bravo! Bravo! 92 minuti di applausi!